Continua a essere uno dei migliori batteristi e percussionisti italiani. Loro d'oro ha la carriera, vediamo il video. Atulio Pesiscopo! Grazie Giulio, un grande applauso, perché sei la mia vita. E' una persona primi, una persona con un cuore grande, che ha dato tanto e tanto. La musica è la vita, ma io voglio credere con la mia famiglia e i miei nipotini. E' un dedico al mio fratello di Bruno Luiz, Nino Daniele, il quale faccio. E' un dedico ad Astor Piazzolla, grazie per questo premio, su prestigiosi. E' un mio amore, i miei figli, ma anche i miei nipotini, i miei nipotini, quando hai una famiglia, è un tesoro. Levo il doro a Tullio Pesiscopo, il grande pugno di Pesiscopo. Un grande applauso, sei la medica, sei la mia vita. Grazie Giulio, grazie per chi ci sei. Grazie a tutti. Siamo a Venezia e dopo tanti anni di carriera ci siamo trovati ad accoglierti qua con questo premio incredibile. Quando hai iniziato la tua carriera da musicista, dove pensavi di arrivare? Proprio qua, dove sei arrivato oggi? No, non l'ho pensato, però molte cose che da bambino immaginavano, pensavano, si sono avvelate. Per esempio come incontrare Art Brekkie, uno dei grandi padri del jazz, Max Roach, che guardavo gli LP da bambino, l'ho baciato. Poi ho suonato con Max Roach, chi se l'ha aspettato? I miracoli, queste sono le cose della vita. Poi lo andai a trovare a New York e poi speravo tanto, fantasticavo di diventare poi quello che sono diventato, cioè il Session Man italiano, per la musica italiana, tutti i dischi degli artisti italiani. Questa è una cosa che io speravo, anche perché con la musica che io amo tanto, ho sempre amato il jazz, non c'erano molti guadagni, quindi a Milano c'era bisogno di guadagnare qualcosa, quindi la speranza era quella di entrare come Session Man e suonare per tutti i grandi successi. Come è nata la Viena Pop invece, cioè come è successo, quel grande successo, perché tu come musicista sei in Italia uno dei più importanti, ma come è nata la Viena Pop, questa trasformazione, è stata una necessità, è stato un caso? No, no, io da bambino rappeggiavo, facevo il rap, rappeggiavo tutto quello che i miei occhi vedevano nel quartiere di Porta Capone, quindi ho sempre avuto questa... una passione per il canto, e poi abbiamo inventato il primo rap con Pino Daniele, che era Stop By On, Primavera, è lì, è incominciato veramente il grande successo, fino ad arrivare ai fatti soldi, andamento lento, libero, e allora e allora, qui a testo, tanti successi. Però l'amore jazz è rimasto sempre... Il primo grande amore resta sempre nel cuore, è la musica che ho sempre amato fin da bambino, perché in casa, avendo il mio papà batterista e mio fratello Romeo batterista, giravano gli LP dei più grandi jazzisti d'America, e quindi io vedevo questi... non plene, sono nato con quella musica, praticamente. Quando è arrivato il messaggio che avevi vinto a Leone d'Oro? Ci hai creduto subito o hai pensato che fosse uno scherzo? No, non ho pensato che era uno scherzo, quando ho visto la pergamena, l'invito, siccome mi avevano fatto uno scherzo di amici musicisti per un invito a un concerto alla carne di oro, quindi io pensavo che era uno scherzo, poi invece l'ho guardato bene e l'ho telefonato ed era vero. Quali sono le prime emozioni che hai provato oggi? Cioè, quando ti sei trovato seduto lì ti toccava, è vero che ho vinto per Leone d'Oro. Cioè, dentro di te cosa hai provato sempre che tu riesca a spiegare le sensazioni che si possono provare in un'occasione del genere? No, ero consapevole perché poi c'è stato il tempo di capire, è vero, perché pensavo appunto che era uno scherzo. Però c'è un bel ricordo di Leone d'Oro legato ai nostri miti che erano Alberto Soli, Vittorio Kasman, i grandi registi, i grandi musicisti che mi vedevo con questo Leone d'Oro quando vedevamo in bianco e nero la settimana income, no? Quindi, l'emozione c'era, insomma. Proviamo a sognare adesso. Cosa direbbe Pino Daniele oggi a Tullio d'Episcopo? Azz! E' grande! E' bravo Tullio! E' dedicato anche a lui, questo Leone d'Oro come ho detto prima nella sala dei congressi, è dedicato a lui, il nostro fratello Incusio ed è dedicato anche ad Astor Piazzolla che ho fatto con lui dieci long play nella storia del tango. Azzor Piazzolla con suo intento mi ha dato veramente tanto, tanta musica. Grazie Tullio! Ciao! Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti